La Ternana è un'autentica macchina da guerra. Oltre a non avere ancora subito una sconfitta, ha siglato 28 reti in campionato, 19 tra Lega Pro e Coppa con le punte. Le Fere hanno numeri straordinari, 7 reti per Partipilo, 6 per Faietti, autentico lusso per la categoria, 3 per Vantaggiato, 1 per Ferrante e 2 per Rajcevic. Segue il Bari con 16, 5 Antenucci, 3 Marras, 3 Dursi, 2 Montalto e una testa per Citro, Simeri e Candellone. Il Teramo, terza forza del campionato, con le punte è andato in gol solamente tre volte, 1 con De Francesco e 2 con Pizzauti, 8 per la Turris, quarta forza del torneo. Tre volte in gol Giannone, 3 Pandolfi, 1 Longo e 1 Persano. Scatenato il Catanzaro con 11 reti, 5 reti per Carlini, 2 per Evaco, 1 per Curiale e Di Massimo, 1 per Di Piazza e 1 per Casoli. Passando all'Avellino sono 6 i gol realizzati dagli attaccanti, 2 a testa per Maniero, Felle e Santaniello che ha fallito anche un rigore. Ancora secco Bernardotto, anche se si può aggiungere un gol del Jolly a Damo contro la Casertana, con 555 minuti giocati e Santaniello la punta che è stata maggiormente schierata da Braia. Per lui anche un assist, così come per Bernardotto. Il game winner De Lupi resta Santo D'Angelo con due gol decisivi.